Sei stanca di perdere tempo asciugandoti i capelli e pettinandoti? Delle piastre per capelli che ti bruciano le punte? I prodotti chimici li rovinano! Ma finalmente c'è una soluzione! Velford Style & Dry è una soluzione 2 in 1 doppiamente efficace perché combina in un unico prodotto il potere di un potente asciugacapelli con la delicatezza di una morbida spazzola per la messa in piega. L'aria calda che esce dalla spazzola ammorbidisce e si prende cura dei tuoi capelli senza danneggiarli. Potrai usarla con una sola mano, mentre con l'altra potrai aiutarti e dare forma alla tua conciatura. Con Velford Style & Dry puoi fettinare e modellare i capelli mentre li asciughi. Il segreto del massimo comfort sta nel suo design rivoluzionario. Le punte sferiche ti offrono un delicato massaggio e la base morbida imbottita ti permette di farlo senza danneggiare il cuoio capelluto. Di addio agli scomodi e dolorosi strattoni! L'aria calda di Velford Style & Dry rende i capelli morbidi e le setole flessibili scivolano facilmente in qualsiasi direzione grazie alla tecnologia antinodi. Dimentica nodi, ciocche aggrovigliate e capelli ribelli! La tua chioma sarà lucida, morbida e liscia. Spazzola semplicemente i capelli. La differenza salterà subito all'occhio. Asciuga capelli, strattoni, prodotti chimici. I tuoi capelli sono esposti a diverse aggressioni. Velford Style & Dry invece asciuga e pettina contemporaneamente. È rapida e si prende cura dei tuoi capelli. Non li danneggia in nessun momento. E grazie alla sua ampia superficie potrai asciugare e pettinare una grande quantità di capelli con un solo gesto. E guarda come sono lucidi! Prima dovevi sostenere l'asciugacapelli con una mano e la spazzola con l'altra. Era incomodo, stancante. Ora puoi asciugare e pettinare i capelli con un solo gesto in pochi minuti usando una sola mano e senza stancarti, perché è incredibilmente leggera. Dai ai tuoi capelli il volume che hai sempre desiderato! Velford Style & Dry a tre temperature di asciugatura. Il cavo rotante a 360 gradi è pratico e ne facilita l'uso. Non dovrai più perdere tempo e denaro in cari saloni di bellezza. Ora puoi ottenere risultati professionali a casa, comodamente in metà tempo. Non importa come sono i tuoi capelli, otterrai sempre un look davvero impressionante. Velford Style & Dry è una spazzola asciugacapelli antinodi rivoluzionaria, leggera e facile da usare, che ti permetterà di avere capelli lucidi e morbidi in metà tempo. Acquista ora la tua Velford Style & Dry. Grazie a tutti!